E' finito con il risultato di 1-0 in favore degli ospiti il match tra Virtus San Giustino e Real Pitulum Tiberis, valevole per la decima giornata del campionato di promozione Umbra, Girone A. Decisiva la rete di Patrizia al 35esimo minuto della ripresa, che ha regalato al Real Pitulum Tiberis la prima vittoria stagionale. Per la Virtus San Giustino si tratta invece della seconda sconfitta interna stagionale. Andiamoci a sentire le interviste realizzate nel post-gara con i due allenatori Valerio Bendini e Marco Farinelli. Mister Valerio Bendini, è arrivata oggi una sconfitta in questa gara contro la Real Pitulum Tiberis. Un tuo commento? Credo che la Tibis non abbia rubato nulla, credo che abbia fatto una buona partita. Noi abbiamo fatto una partita molto sotto torno, ma probabilmente è merito anche della Tibis, che secondo me ha fatto una buona partita. Cosa mister non è andato della tua Virtus oggi? Se devo essere sincero sono andate pochissime cose. Abbiamo addirittura preso un gol sul calcio piazzato. Ma io l'avevo detto un settimana che la partita sarebbe stata difficile, perché credo che la Tibis comunque è un organico che non merita probabilmente neanche quella classifica. Oggi l'hanno dimostrato di essere una buona squadra. Mister rimani comunque positivo per quanto riguarda più ampiamente questo primo periodo a San Giustino? Il periodo è positivo, però quando vieni da una sconfitta così a botta calda c'è molto da pensare. Noi siamo molto giovani, perciò ci possono stare queste partite alti e bassi. Domenica abbiamo vinto fuori, oggi abbiamo perso casa, solo che oggi probabilmente io ho anche un punto, a un certo punto della partita avrei firmato. Mister, una sconfitta che comunque non cambia i vostri obiettivi? No, non è una sconfitta che cambia i vostri obiettivi, è una sconfitta che in questo momento ci amareggia molto. Però, ripeto, devo dare molto merito alla Tibis che ha fatto una gran partita. Mister Farinelli, allenatore della Real Pitulum Tiberis, oggi un bel successo qua a San Giustino. Sì, era ora, era ora perché abbiamo passato un periodo difficilissimo, con tante difficoltà, tante situazioni anche complesse. Però devo dire bravi ragazzi perché non hanno mai mollato, si stanno sempre allenati bene e oggi ci togliamo con la soddisfazione che aspettavamo da tanto. Mister, quello che avete dimostrato oggi, soprattutto a livello di gioco, testimoni che questa squadra non merita assolutamente la posizione di classifica. Ma assolutamente no, noi siamo lì perché sono stati tante vicissitudini tra le assenze dei giocatori e altre cose che siamo riusciti adesso forse a trovare la quadratura. E oggi ci siamo tolti veramente la soddisfazione, che però non deve essere fine a se stessa, ma dobbiamo dare continuità domenica prossima perché siamo in una posizione di classifica che non ci possiamo permettere nessuna distrazione. Però la partenza di oggi è sicuramente positiva. Le tue impressioni mister di questo ritorno qua a San Giustino d'Avversario? Onestamente fino a che non c'è stato il fischio all'inizio dell'arbitro un po' una sensazione strana l'avevo avuta anche perché io sono stati dieci anni qua quindi è un po' come casa mia assolutamente. Però poi quando l'arbitro ha fischiato ero concentrato nella partita e abbiamo fatto un'ottima partita secondo me meritando di vincere e bene così. Una vittoria da cui ripartire per continuare a fare meglio? Ma sì sì, l'ho detto prima, questa deve essere solo la prima di un periodo che ci deve portare a risalire assolutamente la classifica perché oggi abbiamo dimostrato che non meritiamo dove siamo. Però con le chiacchiere si fa poco, dobbiamo fare i fatti, dobbiamo continuare ad allenarci bene come abbiamo sempre fatto, dobbiamo giocare da squadra, da gruppo unito e sono convinto che le soddisfazioni ce le toglieremo. ... ...